ma oltre ai vizi personali ai misfatti e alle molte offese recate al prossimo esistono i peccati di chi procede sulla retta via biasimati sì dai buoni giudici secondo la legge della perfezione ma pure apprezzati per la speranza del frutto futuro come è apprezzata l'erba per il grano esistono poi anche certe azioni che somigliano a vizi o a misfatti ed invece non sono peccati poiché non offendono né te signore dio nostro né la comunità umana è il caso per esempio di chi si procura qualche bene per farne uso in caso di bisogno a tempo opportuno ma forse agisce per il gusto di possedere o chi avendone legittimamente il potere punisce un reo per rieducarlo ma forse agisce solo per il gusto di far del male esistono dunque molte azioni che agli uomini sembrano riprovevoli ma che la tua testimonianza invece approva e molte che gli uomini lodano e tu con la tua testimonianza condanni spesso infatti sono diversi l'aspetto di un'azione e le intenzioni di chi agisce in situazioni che non conosciamo ma se tu comandi all'improvviso qualcosa di insolito ed imprevisto addirittura vietato da te stesso in precedenza chi dubiterà dell'obbligo di compierla anche se non riveli al momento la causa della tua imposizione e se entra in contrasto con le regole sociali l'unica società umana giusta infatti è quella che serve a te e beato chi si rende conto che l'ordine viene da te perché ogni atto dei tuoi servitori o viene compiuto per realizzare quanto si chiede al momento o preannuncia quale sarà il futuro